Dopo aver fatto il 150% in quattro mesi, il cacao continuerà a salire o tornerà indietro di botto? Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, io sono Francesco Buzzi, trader a tempo pieno da luglio del 2017 e vi ricordo l'appuntamento del 16 aprile alle 21 in punto, link in descrizione. È lunedì, il giorno più bello della settimana perché si ritorna a lavorare e i mercati riaprono. Oggi parliamo di cacao, vi voglio portare dentro il ragionamento che faccio per rispondere a questo tipo di domande. Vi farò vedere un po' di codici, un po' di analisi statistiche e infine, in fondo al video, darò finalmente la risposta definitiva a questa curiosità. Allora, iniziamo subito. Siamo su 3Station, ci sono una serie di grafici. La prima cosa che sono andato a controllare del cacao, per ora ancora zero codice, è questa, cioè la distribuzione dei grafici del cot. Il cot è il commitment of trader, cioè un indicatore ufficiale, attenzione, con i dati ufficiali della distribuzione dei contratti sui futures. E si vede che effettivamente c'è stato un cambiamento nei commercials, che sono in blu, cosa vuol dire? Banalmente, erano in un video sul cot, ma molto velocemente il cot traccia chi sono gli operatori sui mercati. Ok? Quindi sul cacao possiamo vedere chi muove particolarmente il prezzo, i commercial, cioè chi ha le mani in pasta, i non commercial, cioè chi fa solo speculazione, tra virgolette, e gli altri. Effettivamente c'è un po' di cambiamento nel mercato, nel cot, nell'indicatore del cot, non particolarmente esplicativo, non ci dà particolari informazioni. Allora, ho iniziato un po' un'analisi statistica. Questo è il grafico numero 1, che riporta il codice numero 1. In particolare questo grafico dice, compra ogni volta che la barra è verde, vende ogni volta che la barra è rossa. Molto semplice, ma che ci serve per capire appunto l'andamento del cacao in base alle tendenze, in base ai trend. Cioè, quante barre fa normalmente di seguito il cacao di un certo tipo? E questa è una domanda fondamentale da farsi e a cui rispondere. Perché banalmente, se ha una barra verde, fa seguito a una barra rossa, spesso non possiamo comprare sulla barra verde. Perché poi il prezzo cambia la direzione, no? È abbastanza immediato. Se invece abbiamo una barra verde, dopo la barra verde ci sono 3, 4, 5, 6, 7 barre verdi consecutive, abbastanza spesso magari capita, e allora quello è un trend. Allora noi automaticamente sappiamo che con la barra verde dobbiamo raddrizzare un pochettino le antenne. Il codice che ho messo è questo qua, però in descrizione voi lo trovate, come al solito. Quindi, close maggiore di open, then buy next bar at market. Il codice è molto semplice, che semplicemente dice se la barra è verde, allora la prossima barra entra a mercato. Quindi entriamo qua e non qua, semplicemente perché noi non sappiamo quando la barra è verde. E quindi vediamo le tendenze ad andare in trend di cacao. Ed è molto semplice valutarlo, basta aprire il performance report. Cioè non serve un'analisi, so, contestualizzata, io cosa ne penso, cosa non penso. Ci sono i numeri, e i numeri dicono che fa schifo, non rispetta questo genere di trend, il cacao. Tra l'altro notiamo che in passato, dal 99 al 2007, quindi per 8 anni, è stato esattamente l'opposto. È stato un mercato soprattutto reversal. E poi ha cambiato, si è iniziato un po' di patatrack, e non ha più seguito una particolare tendenza. Informazione numero 1 che ci portiamo a casa. Secondo test che ho fatto, vi apro il grafico a tutta pagina, eccolo qua. È simile ma diverso, cioè il trend che noi abbiamo cercato sulla barra rossa o verde, ci sono diversi tipi di trend, non è l'unico modo di identificare un trend. Allora un altro modo potrebbe essere, la cosa è maggiore di una media mobile. È un trend, sempre trend, ma leggermente diverso. Quindi non ci possiamo fermare a una idea di trend, non ha particolare senso. Allora ho testato proprio questo codicino qui, molto semplice. Se la close è maggiore della sua media di 5 giorni, possiamo testare 10, 15, non mi interessava. Cioè, se oggi la close è maggiore della media del prezzo di una settimana, negli ultimi 5 giorni, allora compro. È un tipo di trend diverso. Vediamo se risponde. Noi vediamo che, intanto ad occhio, sembrerebbe rispondere meglio. Perché questo ultimo trend l'ha preso molto bene. Poi ci sono i soliti falsi segnali, sono test statistici, non sono sistemi. Però, però, inizia a prendere i trend o meglio, questo ultimo trend, meglio. In modo più efficace. Ecco, a occhio ci sembra così. Noi cerchiamo di far parlare sempre i numeri, ok? Quindi apro lo strategy performance report. Questa analisi statistica ci riporta che, effettivamente, a occhio, noi avremmo visto un trend positivo. Quindi noi saremmo magari stati tentati in questi mesi di lavorare con la close maggiore della media mobile. Sarebbe andata anche bene, ok? Se avessimo, cioè, se ci avessimo pensato ex ante. Qual è la realtà? E non ci avremmo mai pensato ex ante. Perché per 25 anni quasi, questo tipo di approccio statistico non ha funzionato. E quindi non l'avremmo messo in atto, ok? Il dire, eh no, bastava seguire questa cosa e avremmo fatto tanti soldi. Che è spesso qualcosa che si sente online. I trader più, diciamo, meno esperti tendono a cadere in queste trappole. Ma non l'avreste pensato. È il classico bias d'ex post. Cioè, col senno di poi, siamo bravi tutti, ma che non possiamo lavorare col senno di poi. Non possiamo andare indietro nel tempo, ok? Non siamo Erdino e Granger in Harry Potter 3. Così, una reference a caso. Quindi anche questo test statistico ci dice che non è quel tipo di trend che segue cacao. Ok? Quindi non possiamo avere risposte. C'è un altro però interessante. Chiudo il performance report. Rimpicciolisco il grafico. Io non vedo niente in questo monitor. Quindi prima o poi dovrò cambiare la disposizione delle luci. Bene. Questo è un altro test che, a prima vista, ci sembra interessante. Perché quest'ultimo trend è stato molto positivo. Ormai noi abbiamo però capito che se va bene un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, non è detto che vada bene sempre. Quindi non dobbiamo basarci solo su quello che vediamo. In particolar modo, in questo test io ho applicato questo codice che è un altro tipo di trend. Anche questa cosa è molto interessante. Non sto utilizzando indicatori né niente. Io sto semplicemente facendo delle analisi statistiche da applicare al grafico. Il prezzo poi mi parla, mi dice mi muovo un po' più così o un po' più colà. E allora io analizzo questo feedback, questa informazione in entrata. Non mi invento niente. Come dico sempre, faccio parlare i prezzi. Io devo solo ascoltare. Quindi, numero test, tre. Buy, next bar, non vedo il mouse come al solito. Buy, next bar, at highest high. Quindi, compro quando il massimo è maggiore o uguale dei massimi massimi di tutto il tempo prima. Quindi, quando il prezzo è abbastanza alto, è un tipo di trend leggermente diverso. L'ho testato e, come al solito, facciamo parlare il performance report. E al terzo test, le cose cambiano. Perché non solo va bene ultimamente, e va bene, lasciamo perdere questa cosa, ma va bene negli ultimi vent'anni, venticinque anni. È un tipo di trend interessante. In particolar modo, compriamo al massimo del giorno precedente e vendiamo al minimo di tre giorni precedenti. Questa analisi statistica ci dice, ad esempio, che il cacao sale in modi diversi di quando scende. Interessante. Perché è interessante? Perché con due righe di codici abbiamo completamente ribaltato il performance report. Test statistici, cioè non sono sistemi, ma due righe di codici che ci permettono di ottenere questa cosa qua. Perfetto. Ci siamo quasi. Come ultimo test, per rispondere a queste domande, attualmente il sistema, il test statistico sarebbe in buy, ci ho messo stop loss e take profit. Così da analizzare anche la distribuzione dei rendimenti. La risultante è questa. C'è sempre il codice, ovviamente, non ve lo faccio neanche vedere. Quindi ho cambiato. E ho messo la barra verde con take profit e stop loss. Non cambia granché, ok? Lo stop loss e take profit, i risultanti sono 900 dollari di stop loss e 10.000 dollari di take profit. Questa è un'altra informazione importante. Da questo test statistico ci dice che cacao, se inizia a salire, può continuare a salire per parecchio. Interessante. Ultimo test statistico. Ovviamente ci ho messo la ricerca del trend migliore finora raggiunta. Eccola qua. Con stop loss e take profit. Non è un sistema finito, ma stop loss e take profit ci permette di capire come rischia il cacao, come prende in profitto il cacao, eccetera. La risultante è questa qua. Arriva subito il performance report. Ecco, noterete che è sparita la, diciamo così, l'uncino finale. Perché? Perché io vi volevo far vedere con mano, toccare con mano, che quello che facciamo noi non è creare qui di là in pelle. Perché non ci possiamo fare niente, come il discorso di prima. Ma è chiaro che se quattro mesi fa io avessi saputo che comprare cacao quando la close è maggiore della sua media mobile avrei fatto qualcosa come 50.000 dollari, ok? Ma fino allora non l'avrei mai fatto, perché fino allora ha funzionato male. Quindi non ha senso fare questo tipo di analisi. Non è utile. Cioè, letteralmente non è utile. Quello che dobbiamo fare noi è analizzare cosa è successo al passato, così da replicare queste condizioni in un futuro imprevedibile. Quindi io ho caricato questo grafico solo fino a fine 2023. Quindi non abbiamo il 2024. E stop loss e take profit con questo tipo di ricerca del trend, che era quello che funzionava bene, ve lo ricordo, buy in ex barret highest high. Ah, un take profit, uno stop loss, che se riesco a farvelo vedere, di 800 dollari lo stop loss e di 900 dollari il profit. è scomparso i 10.000 dollari. Non c'è più quel tipo di dispersione, ok? È andato così per 24 anni, anzi 25 anni. E così noi l'avremmo approcciato. Quindi adesso modifico il grafico e faccio arrivare lo storico fino ad oggi. Non sto facendo un'analisi out of sample, ragazzi. Non cadete in questi trenelli, l'out of sample è una cosa completamente diversa. Il risultato ovviamente è positivo, perché ovviamente è positivo, perché per 25 anni è stato positivo. Ha un po' un uncino, perché è salito molto e noi prendiamo bene i trend. Ma se avessimo ottimizzato tutto lo storico fino ad adesso, avremmo avuto un risultato fallace, diciamo così. Quindi, detto questo, cacao continuerà a salire o no? Beh, da un certo punto di vista, basta fare così. Quindi togliamo stop loss e take profit. Lasciamo la ricerca del trend, che ho funzionato meglio finora, e dice in profit, cioè dice long. Ok? Quindi noi dobbiamo andare long con cacao? E qui sta la risposta alla domanda. No. Da un certo punto di vista, no. Perché ricordiamoci qual è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo non è creare equity line belli, è capire cosa fare adesso. Io devo comprare cacao? Ho dei dubbi. Non abbiamo risposte vere. Perché? Perché quello che è successo negli ultimi quattro mesi su cacao non succedeva da 50 anni ed è causato esclusivamente da una crisi climatica in Africa che produce il 60% del cacao commerciato nel mondo. Punto. Una crisi climatica che non si vedeva in 50 anni ha mandato in frantumi il raccolto e quindi per la legge della domanda dell'offerta il prezzo è salito. Punto. Non c'è alcun modo statistico o exante di prevedere queste cose qua. Punto. Letteralmente. Quindi qual è la nostra risorsa? Cosa dobbiamo fare adesso? Intanto vi faccio vedere questa cosa. Quindi ne ha parlato Bloomberg. Crisi climatica, le cioccolate, eccetera, eccetera. In realtà ne ha parlato anche il post e ve lo riporto perché ha detto una cosa sbagliata. I prezzi sono i più alti da quasi 50 anni a causa di uno scarso raccolto dovuto al maltempo ma anche di decenni di sfruttamenti e bassi investimenti. No? È falso. Perché decenni di investimenti e falsi sfruttamenti avrebbe potuto, dovuto generare un aumento del prezzo del cacao anche l'anno scorso, anche due anni fa, anche tre anni fa e non c'è stato. L'aumento di quest'anno qua è stato dovuto esclusivamente al maltempo e non c'è sistema che lo posso prevedere, non c'è analisi Cimoku, onde di Elliot, pattern strategici o astrologici che lo possano prevedere. La nostra risposta è più sottile. Non è a livello di sistema, è a livello di portafoglio. È per questo che nel metodo scocchierello insegno la diversificazione a quattro fattori, il money management orizzontale, la gestione dei rischi singoli di portafoglio, perché noi non possiamo prevedere quando succederà la prossima crisi climatica simile a quella del cacao. Quindi dobbiamo approcciare il domani, non col singolo sistema che pensiamo ci possa far diventare ricchi, ma con diversi sistemi robusti, bruttini, ma robusti, distribuiti bene. Diversificazione a quattro fattori. Se vuoi imparare il metodo alla base, con tutti i trucchi, c'è il master scocchierello, se no ti invito all'appuntamento del 16 aprile. Ti rivelo come, diciamo così, non studiando, ma studiando meno, puoi riuscire ad approcciare i mercati senza necessità di prevedere il futuro, ma superando questi ostacoli e questi fatti totalmente imprevedibili senza problemi, senza nessun trucco di magia. 16 aprile, ti aspetto alle 21 in punto, webinar gratuito per tutti i trader automatici o wannabe trader automatici. Detto questo, vi auguro una splendida settimana perché sicuramente ve lo meritate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!